Buonasera, 129.000. A che cosa corrisponde questo numero? Questo numero corrisponde a una semplice ricerca su Google, su motore di ricerca più famoso del mondo. Se inserite effetti dello smog sulla salute vi escono in pochissimi secondi 129.000 risultati e il problema era già ben conosciuto. Negli anni 80, quando mi ricorderete uscì forse, forse alcuni si ricordano, uscì il famoso film Blade Runner di Ridley Scott, era ambientato in una Los Angeles distopica e affollata, piena di persone e anche sostanzialmente chiusa dallo smog, da una bolla di smog che non consentiva alle persone nel film di vedere il sole e dove pioveva costantemente. Senza bisogno di richiamarci alla fantascienza, le immagini che vedete alle mie spalle riguardano un ingorgo stradale in Cina che è durato nove giorni. Vi immaginate rimanere bloccati nel traffico per nove giorni? Infatti, come vedete dalle foto, le persone si erano organizzate, venivano portati viveri, sono stati creati dei bagni, le persone si lavavano. Il traffico è disordine, il traffico è un grossissimo problema e non si risolve costruendo nuove strade. Ed è un concetto che già negli anni 30 Robert Moses, famoso costruttore della città di New York, aveva chiarissimo. Ogni volta che costruisco una nuova strada, dopo 5 minuti questa strada è invasa dal traffico. Quindi non risolviamo il problema del traffico semplicemente costruendo nuove strade. Oggi poi siamo in un'epoca in cui in realtà tutto si rimpicciolisce. Non andiamo verso l'opulenza, andiamo verso il rigore. Se vi ricordate qualche anno fa cosa significava avere una collezione musicale di CD o di LP e quanto spazio ci voleva per tenere in casa gli LP e i CD, oggi è tutto ridotto in un piccolissimo strumento. Così come oggi abbiamo in mano tutti uno smartphone all'interno del quale la tecnologia ci consente di fare cose che prima non erano assolutamente prevedibili e ovviamente non si poteva pensare di realizzarle solo tramite un piccolo strumento chiamato smartphone. Oggi siamo in una dimensione in cui less is more. Che cosa significa? Significa che il meno è il più. Non dobbiamo certo cercare di creare qualcosa che stravolga il sistema ma dobbiamo con quello che abbiamo riuscire a trovare l'equilibrio, trovare un modo per mettere ordine al disordine. Perché c'è un concetto molto importante da tenere presente quando si parla di traffico. Il traffico non è un fenomeno lineare. Cosa vuol dire che il traffico non è un fenomeno lineare? Significa che il traffico ci corrisponde perché voi sapete benissimo che tutti i giorni facciamo dei percorsi fissi ma facciamo anche dei percorsi che non abbiamo mai fatto. Quindi certo tutti i giorni noi vediamo le città che la mattina vengono in vase di macchine in entrata e la sera le macchine ne escono per tornare a casa e si crea quindi un movimento di questo genere come un polmone o un cuore. Ma poi ci sono anche tutti gli altri movimenti erratici che a seconda della giornata noi facciamo perché abbiamo bisogno di muoverci. Quindi il traffico è un fenomeno che riguarda tutti, da cui nessuno di noi è esente e per di più vogliamo sempre muoverci in un'infinità di modi diversi. Un giorno preferisco usare la bicicletta, un giorno preferisco usare il motorino, un giorno preferisco spostarmi in macchina o piove e mi devo spostare in macchina o ci sono più persone che devono venire in macchina con me. Quindi abbiamo sempre bisogno di muoverci in maniera diversa e il nostro rapporto con la mobilità si estrinseca in tre modi fondamentalmente diversi. Il primo modo è emozionale. Perché abbiamo un rapporto emozionale con la mobilità? Perché muoversi significa essere liberi. Io posso pensare di uscire di casa e di andare dove voglio. Quindi sono libero. Ed è importante per me mantenere questo rapporto emozionale e riuscire a pensare che posso muovermi liberamente perché questo corrisponde a quello che io voglio fare. Però il nostro rapporto con la mobilità è anche condizionato da un altro elemento, culturale. Significa che spesso il nostro modo di muoversi dipende dall'ambiente circostante, dalla nostra cultura, da come siamo stati abituati. Si apete benissimo, ad esempio, che l'Italia è un paese dove c'è un numero molto molto alto di vetture per abitante. Siamo sopra la media europea. Abbiamo circa 60 vetture ogni 100 abitanti. La media europea è sotto le 50 vetture. Quindi c'è anche un tema culturale connesso alla mobilità. Poi su questo vi dirò una cosa abbastanza sorprendente, ma dovete tenere a mente che siamo comunque sempre condizionati. E poi abbiamo un altro modo di interagire con la mobilità, che è aspirazionale. Ciascuno di noi ogni giorno pensa che quel senso unico sia fatto male, che quella rotatoria non sia nel posto giusto, che quel semaforo non duri abbastanza, che quell'attraversamento pedonale non sia messo nel posto corretto. Un po' lo stessa cosa che noi italiani soprattutto facciamo col calcio. Dopo una partita di calcio siamo tutti bravissimi a dire potevano fare così, potevano fare in quest'altro modo, avrebbero dovuto fare. Stesso discorso con la mobilità. Non è purtroppo così semplice, anche perché quello che noi cerchiamo oggi è comunque di vivere tutti nelle città. Oggi ci sono 3,5 bilioni miliardi di persone che vivono nelle città. Il 60-80% delle risorse vengono consumate direttamente dalle città. Due terzi della popolazione mondiale entro il 2030 vivrà nelle città. Questo non agevola come potete immaginare e questo è il trend che vedete che accadrà nei prossimi anni. Nel 1970 il 30% delle persone vivevano nelle città. Nel 2014 il 54, nel 2050 il 66% delle persone vivrà nelle città. Non semplice da gestire. È un movimento costante, in crescita, che porta le persone ovviamente a concentrarsi in un unico posto perché è più facile l'accesso ai servizi. Poi cos'è successo negli ultimi anni? La crisi economica, che come sapete ha portato tante cose negative, ha portato anche qualcosa di positivo. Si è sviluppata negli ultimi anni la sharing economy e anche in Italia la sharing economy sta dando grandi frutti e grandi risultati. La sharing economy che significa semplicemente passare dal possesso di un bene all'accesso allo stesso bene. Non è più necessario che io sia il proprietario di quel bene perché mi interessa fruire di quel bene solo per un tempo preciso e stabilito e non ho bisogno di averlo. Posso accedere a quel bene senza avere bisogno di possederlo. La sharing economy ha avuto impatti diretti in tre settori fondamentali. L'ospitalità, nel senso appunto gli alberghi, le case diffuse, come siete tutti i fenomeni famosi come Airbnb, nella mobilità e nel lavoro diffuso perché si sono create nuove professioni. Nella mobilità ha avuto un impatto molto forte e anche in Italia, che appunto come vi dicevo prima è tra i paesi in cui c'è un alto numero di auto di proprietà per abitante, in realtà ha trovato un terreno estremamente fertile nonostante fosse l'ultimo paese in cui a livello europeo si pensava di investire nella sharing economy. In realtà gli utenti di sharing economy, quindi sharing mobility, sono tantissimi e in Italia ci sono dei casi di grande successo. Questo come vedete è un grafico che vi dice quanto si sta diffondendo la sharing mobility. Entro il 2020 ci saranno 15,6 milioni di persone che utilizzeranno soltanto veicoli in condivisione e che non sceglieranno più di comprare un'auto privata. Oltre alla sharing economy oggi ci troviamo di fronte a un altro fenomeno molto importante che è l'app economy. Dentro il vostro smartphone avete tutte le app possibili e immaginabili, quelle che tutti conosciamo ovviamente e ci sono anche tantissime app che danno accesso a sistemi di mobilità. Quindi oggi lo smartphone diventa un accesso diretto al mondo della mobilità oltre che a tantissime altre funzioni di cui abbiamo bisogno tutti i giorni. Questo tipo di economia è molto importante perché è in crescita incredibile. Si valuta che entro il 2021 6,3 trilioni di dollari gireranno intorno alla app economy. Gli utenti cresceranno dagli attuali 3,4 bilioni di persone a 6,3 bilioni miliardi di persone. Ma la cosa pazzesca è il tempo speso sulle app. Il tempo che spenderemo sulle app crescerà fino a 3,5 trilioni di ore nel 2021. Quindi oggi in realtà la mobilità è un strumento attraverso il quale noi possiamo governare il disordine. Governare il disordine, il disordine è il traffico. Abbiamo accesso oggi a delle buone pratiche, abbiamo accesso a sistemi che ci consentono di utilizzare attraverso lo smartphone più tipologie di mobilità, anche in maniera interoperabile. Che cosa significa? Significa che io posso usare un'applicazione che mi porta da A a B e poi con un altro strumento muovermi sempre tramite un'altra applicazione e magari fare lo spostamento di lunga percorrenza col treno. E queste sono le formule che oggi ci consentono di pensare a un futuro migliore. Oggi una delle tendenze che si sta sviluppando si chiama MASS, Mobility as a Services. Ci sono aziende come immaginate che stanno investendo tantissimo per far crescere la mobilità come un servizio e non più come qualcosa che io devo possedere per muovermi ma come un servizio a cui posso accedere. Quindi oggi ci sono le soluzioni, ce ne saranno sempre di più, il mondo si sta muovendo in questa direzione ma quello che dobbiamo sempre tenere presente è che dobbiamo sempre metterci il nostro impegno e la nostra volontà perché abbiamo un pianeta solo, finito quello non ce ne saranno più. Grazie mille.